A me non sembra proprio che si muova. Chiedo scusa. Nessuno si mette tra me e i miei amici. Un male. Scusate il ritardo. Sei solo umano. Sì, sono sul pezzo. Che tecnica fantastica. Lascia fare a una professionista. Hai avuto ciò che meritavi. Ragazzi, non provateci a casa. Ho come l'impressione che tu non mi prenda sul serio. Lasciate che vi mostri come si fa. Ottimizzo gli sforzi. Hai visto come si fa? La vera maestria è la più raffinata delle arti. Sì! Ha ha! Woohoo! Woohoo! Uuuhuuhu!